Allora, ripartiamo con un intervento del dottor Ruggerini. Il dottor Ruggerini è neuropsichiatra infantile, psichiatra, psicoterapeuta, direttore della cooperativa sociale Progetto Crescere di Reggio Emilia. Ecco, allora ho preparato il mio intervento, l'ho scritto, è una cosa che non faccio mai, però vi garantisco che sono otto minuti. Allora, ho scelto di accennare a tre temi, la formazione della comunità, i fruttori privilegiati delle storie del libro e la comunicazione scientifica. Primo, formazione della comunità. Il tema della formazione della comunità è stato messo in risalto negli ultimi vent'anni in ogni documento internazionale. Penso al documento dell'OMS del 2002 sulla necessità di prendersi cura in modo nuovo delle condizioni croniche, Innovative Care for Chronic Condition, e al documento sulla riabilitazione su base comunitaria di poco successivo. Lo sviluppo delle persone con disabilità non avviene solo negli ambulatori oppure nei centri specializzati, ma necessita del contributo di tutte le agenzie e di tutte le persone della comunità. Agenzie e persone della comunità si attivano o si disattivano nelle relazioni e nella costruzione di opportunità in funzione della rappresentazione sociale delle condizioni, ciò che nella letteratura antropologica si definisce con il termine di sickness. A seconda della sickness le relazioni si attivano o si spengono. La Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha codificato ufficialmente la necessità di questa formazione nei principi generali dell'articolo 3 e nell'articolo 8 intitolato Accrescimento della consapevolezza. In pratica ha spiegato Giampiero Grifo che ha contribuito alla stesura della Convenzione e la comunità che deve essere riabilitata al riconoscimento delle caratteristiche e dei diritti della persona, riabilitata con lo strumento della formazione. Il libro di Giaroli illustrato dalla Pella Cane si pone esattamente in questo solco della formazione della comunità e in particolare dei bambini in età scolare, ma non solo. Appartiene dunque a un grande progetto che definisce le caratteristiche del nostro tempo. Due, i fruitori privilegiati delle storie. Il libro di cui parliamo è indirizzato ai bambini con sviluppo tipico e atipico in età scolare, ripeto, non solo. Ho provato a immaginarmi seduto dietro un banco ad ascoltare le storie di Melissa e di Silvano da bambino. Ma quali pensieri avrei avuto? Il primo, mi sarei sentito autorizzato a pensare che i bambini e gli uomini sono diversi tra loro e questo mi avrebbe suggerito curiosità e rispetto per le attitudini degli altri. Il secondo, avrei scoperto che se uno sta fuori dalla media può soffrire e sentirsi escluso e questo mi avrebbe indirizzato verso l'empatia e la solidarietà. Il terzo, sarei stato sorpreso dall'idea che chi è fuori dalla media può essere originale e creativo perché può pensare in modo non convenzionale. Belle metafore allora, quelle di Melissa e di Silvano sulla neurovarietà. Quanti insegnamenti per i bambini, quanti spunti possibile per riflettere sulla condizione umana. Vi esprimo una fantasia che mi è stata sollecitata dalla lettura, ma sono stato preceduto da Luca Pingani. Poter spiare o ascoltare o registrare le considerazioni dei bambini che ascoltano le storie di Melissa e Silvano. Immagino riflessioni semplici, mariose, di grande apertura alla scoperta della vita in ogni sua forma. La comunicazione scientifica. Adesso lascio il banco di scuola elementare. Mi metto nei panni di Giovanni, lo psichiatra. Fino ad ora, l'argomento è stato quello della neurovarietà. Ogni cervello è diverso. È una rete di connessioni, un connettoma, che ha lo stesso attributo di unicità delle nostre impronte digitali. Ma adesso viene il tema difficile. Se ogni cervello è diverso, se i comportamenti si situano lungo un continuum, perché in alcuni casi i comportamenti vengono associati a una categoria diagnostica? La linea di confine tra sviluppo tipico e atipico è in larga misura arbitraria. I dottori tracciano una linea immaginaria, dice Giovanni, il Barbagianni. Quanti altri problemi sono nel campo di cui stiamo parlando ancora in via di definizione? Punto esclamativo, non riesco a renderlo. L'autismo è una condizione esistenziale, una disabilità o un disturbo? Di sicuro, l'autismo non è una malattia fisica assimilabile a una calcolosi reale, renale, e neppure un disturbo mentale assimilabile alla depressione. Eppure la categoria dell'autismo è inserita nel manuale dei disturbi mentali. C'è molta ambiguità in questa collocazione. La categoria disturbo utilizzata in psichiatria è un costrutto, un elaborato della cultura, utile ma non vero. Non vero come lo sono i fatti di natura. È utile per la comunicazione scientifica. È utile per favorire le abilitazioni necessarie in ambito sociale e relazionale. Come è fragile il fondamento della cultura psichiatrica. Benedetto Saraceno ha qualificato questa fragilità come la povertà della psichiatria. Aspetti, ma non degli psichiatri, ma non degli operatori che si affannano nel campo. Faccio questa precisazione. Visto che la posizione epistemologica della psichiatria è così fragile, nelle azioni di assistenza gli psichiatri non possono limitarsi alle informazioni essenziali sulle condizioni scritte sui manuali. È necessaria una comunicazione. La comunicazione richiede un'elaborazione, un'elaborazione dei significati delle informazioni. Il lupo silvano è, come dice Melissa la Prolissa, un gran filosofo. Ci mostra un esempio di interpretazione delle informazioni ricevute come effetto di una buona comunicazione. Giovanni gli ha dato una sua opinione. Attenzione alle parole. Una sua opinione vuol dire ha usato consapevolmente il suo costrutto. E lui, Silvano, ha elaborato l'opinione, il costrutto, in modo utile. Sono contento di sapere. Tutto ha senso ora. Sapere è capire, e capire è cambiare ciò che posso cambiare, e accettare ciò che non posso cambiare. Bel messaggio per gli psichiatri, che pure all'interno di una disciplina in cui molti problemi concettuali sono in via di definizione, possono realizzare una pratica di promozioni dello sviluppo, possono comunicare, cioè costruire con chi si rivolge a loro i significati della condizione. Grazie. Grazie, dottor Ruggerini, chiamo il dottor Stefano Mazzacurati, psichiatra, psicoterapeuta, che ci parlerà di un intervento dal titolo Non temete il lupo cattivo, brevi note su psicologia e letteratura della FIABA. Grazie. 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 Buongiorno a tutti e grazie cari amici tutti per questo invito che è rivolto a qualcuno che non si occupa direttamente dell'infanzia perché mi occupo degli adulti ma in fondo noi adulti non dovremmo mai perdere l'infanzia che è dentro di noi come una piccola bambolina matriosca. L'origine della FIABA che è l'argomento di cui mi sono proposto di parlare a ponte tra le due attività della mia vita che sono la letteratura e la psichiatria e la psicoterapia l'origine della FIABA è da ricercare nel pensiero magico preistorico pensiero arcaico pensiero catatimico come si dice dalle nostre parti pensiero sincretico che unisce vari simboli eccetera pensiero dei bambini dei folli dei poeti dei dementi del mito della FIABA della leggenda il campo semantico di questi argomenti è simile cioè si destruttura qualcosa come un lego e poi blin 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 si costruisce qualche altra cosa il razionalismo delle civiltà avanzate cosiddette avanzate nel corso delle centinaia di anni ha allontanato quel pensiero i riti di iniziazione incutevano timore ma erano indispensabili poi il rito si trasformò in narrazione mitos in greco vuol dire narrazione tramandata i millenni per via orale quindi con tante variazioni e il parte del mito si è dato alla fantasia e quindi ecco il grande settore della FIABA faccio riferimento in particolare a tanti studi ma soprattutto a Bruno Bettelheim leggete e rileggete il mondo incantato grande analista eccetera e anche agli studi di Vladimir Propp sulle radici del mondo di fate eccetera e lo dico di passaggio la FIABA è universale quindi per molti temi per molti simboli il perdersi in un bosco come fanno Pollicino Hansel e Gretel significa la ricerca del sé ma anche nell'adulto troviamo la letteratura Odisseo in Omero Enea in Virgilio lo stesso Dante mi ritrovai per una selva oscura la diritta via era smarrita naturalmente significa quindi ricerca del sé essere inghiottiti dal mostro quindi è una morte temporanea in cui si scende come Dante come Odisseo come come tanti a un superiore livello inferiore nel buio per poter risalire nella luce che è un altro superiore livello cappuccetto rosso esce dalla pancia non più bambina si dice analiticamente ma ragazza Pinocchio Pinocchio è un testo che può essere letto anche esoterico va più dentro nel ventre del pesce cane non dite mai balena pesce cane per tornare su più adulto quindi il linguaggio fiabesco immaginifico simbolico è molto più significativo per il bambino che non per l'adulto lui capisce immediatamente se parlate in linguaggio fiabesco il bambino si sintonizza se parlate in linguaggio razionale non capisce niente parlo del bambino che non ha ancora raggiunto la capacità concettuale astratta naturalmente poi se è più grandicello il discorso si fa diverso ma attenzione la fiaba non è nata per i bambini ma noi siamo anche bambini parla del potere di agire sulla personalità dell'uomo ci sono anche delle implicazioni psichiatriche come sappiamo studiando l'antropologia della psichiatria transculturale nella medicina hindù per esempio a chi presenta disturbi psichici da sempre viene offerta anche una fiaba su cui meditare certo fa parte di un pattern molto molto largo la sopravvalutazione della ragione ha offuscato l'importanza della fantasia ha offuscato l'importanza dell'immaginazione ne sono uscite delle storie tra virgolette realistiche delle storie pedagogiche morali buoniste pensiamo soprattutto a certe letterature infantili degli anni settanta no? piacevole come evasione ma che non serve un po' come dire pat pat come si fa nei fumetti tranquillo non succede niente come dire a un depresso reagisci tirati su non dite mai a un depresso reagisci ci vuole forza di volontà perché si sente ancora più solo no? e quindi sentimenti contrastanti negare l'esistenza delle ansie dei sentimenti contrastanti non significa eliminare quella realtà come sappiamo soprattutto in psicoterapia almeno quella del profondo c'è poi un equivoco la fiaba non alimenta cattivi pensieri per esempio ci sono i mostri gli orchi no no il bambino viene aiutato a vivere meglio nel suo mondo perché non è ancora capace di come dire di astrazioni divide le cose in opposti per imparare a distinguere il bene e il male lancia la palla lontano per vedere le traiettorie il bambino fa questo scompone per ricomporre come la bambina sa che la bambola non è realmente sua figlia così il bambino può abbandonarsi a queste identificazioni senza pericolo però ecco un'altra osservazione che può essere offerta come contributo ma perché le fiabe siano utili al bambino la partecipazione del genitore o di chi in quel momento ne fa le veci è indispensabile leggere insieme commentare magari fantasticare ancora molti avranno avuto l'esperienza di un bambino che dice no voglio ancora che mi leggi quella lì ma se l'abbiamo letta ieri no voglio c'è questa qui che è nuova no voglio quella perché il bambino è un sacerdote di una liturgia particolare ha bisogno che venga letto ancora che c'è il buono poi arriva il cattivo poi ancora quell'altro l'aiutante l'eroe il buono e tutto va bene finisca contenti ah bene posso andare a letto adesso dormo cioè il bambino ha bisogno di queste rassicurazioni questa è quindi una liturgia non bisogna raccontare fiabe che finiscono male almeno fino a una certa età sono traumi e non va bene il bambino ha bisogno che gli vengano lette delle cose con il mostro con l'orco con la strega con quella roba brutta lì anche da far paura per poi esorcizzare e dire c'è qualche cosa exorior esorcizzare no qualcosa che lo salva in qualche modo e lo rassicura quindi per il bambino il racconto è un rito perché è vero riceve conferme e il dietofine come dire corrisponde al suo bisogno di speranze straordinarie dopo avere perduto il paradiso dell'infanzia quel paradiso antichissimo quando era in fasce paradise lost John Milton eh leggete cioè noi tutti noi siamo alla ricerca di un paradiso perduto eh e il bambino è più vicino ma comincia a crescere e a rovinarsi nell'adultaggine da questo punto di vista le sue soluzioni sono le soluzioni che trova nella fiaba cioè sono date in modo allusivo eh adesso qui smetto di fare lo psicoterapia e psichiatra e vado dall'altra parte io quando sono con gli miei colleghi scrittori faccio la psichiatra e quando faccio la psichiatra sto con gli psichiatri e faccio la scrittura così speriamo che me la cavo allora eh parliamo di Eraclito c'è un frammento di Eraclito che dice il dio che sarebbe Apollo il cui eh insomma simbolo così sta a Delfi Apollo Delfico non parla né nasconde Allah Semainei che in greco vuol dire ma significa qualcuno lo traduce allude ecco la fiaba Semainein allude ehm c'era Husserl all'apertura del novecento che diceva noi fenomenologi insomma un pochettino carezziamo questo eh questi atteggiamenti diceva ehm le cose nascondono un'intenzione e attendono un significato la fiaba ti offre qualcosa ma sei tu che devi eh acquisirne il significato come diceva prima eh uno delle persone che mi hanno eh preceduto siamo tanti mondi in un unico mondo però eh siamo otto miliardi di mondi non e quindi è questo che va individualizzato l'autismo deriva da autos autenticità quindi ecco allora come dire i personaggi fiabeschi sono totali buoni cattivi e non esiste bianco e nero nella realtà ma il bambino ha bisogno per un po' che venga trasferita sull'orco sulla strega sui personaggi negativi la sua aggressività le sue paure e nella fata nell'eroe i suoi sentimenti positivi perché in questa maniera può mettere ordine nei suoi sentimenti ma anche nel suo costrutto mentale nella sua Weltanschauung che è quella parolaccia tedesca che vuol dire la visione del mondo no e la punizione del colpevole soddisfa il suo spiccato senso di giustizia perché se a un bambino gli dice le otto e un quarto deve essere le otto e un quarto eh solo le fiabe tradizionali quelle per esempio raccolte dai fratelli Grimm Andersen bisogna prenderlo un po' però quelle riunite da Calvino per esempio eccetera rispondono a questi requisiti eh sì quindi non solo i bimbi ma anche gli adulti hanno bisogno di leggere di rileggere le fiabe perché ci sono diversi livelli diversi strati in cui noi possiamo scendere nella tebre nell'oscurità e risalire alla luce diciamo e questo va bene anche per chi fa terapia per chi fa front office per chi è in rapporto con lo studente lo studente è sacro il paziente è sacro e quindi i personaggi le vicende della fiaba per concludere per i loro simboli profondi possono contribuire all'espressione del sé e alla terapia che deriva da una parola greca che vuol dire essere al servizio di possono penetrare in quella che Bethelheim definiva la fortezza vuota dell'autismo e aprire qualche porta come si fa autos da autismo autos va legata al nomos dice una mitologia antichissima che il pastore che è il nomas incontra un nomos che è un territorio lo fa suo e dice qui ci comando io come il far west quando arriva ci comando io e allora diventa il nomos il nomas trova un nomos ed ecco il nomos il nomos di lui stesso cioè dell'autos autos nomos autonomia aiutare chi definiamo in qualche modo sono d'accordo con la definizione molto meno importante della descrizione se abbiamo scritto qualcosa Benassi io e altri chi ecco aiutare la persona che definiamo descriviamo come autista no autistico e inesatto può essere anche la strada per trovare l'autos nomos l'autonomia Simoni de Diceo diceva nel quarto secolo avanti Cristo che la pittura è una poesia silenziosa un particolare ringraziamento quindi al tuo lupo ai tuoi personaggi a questo libro oggetto così semplice perché così profondo Elisa e al testo naturalmente è questo che significa la poesia quando diventa pittura la pittura quando diventa poesia e allora idealmente salutandovi vorrei far venire fuori da quel libro a tutti i personaggi e magari anche l'orco anche la strega anche quegli altri buoni eccetera da tutti quanti che come a teatro si inchinassero qui per ringraziare della pazienza avete dovuto ascoltarmi e in qualche modo vi invitassero a rileggerli come qualcosa che è diverso da leggere in modo diverso da come certa tradizione dura ha voluto separarli dal mondo quindi non temete l'animale che io preferisco francamente non temete il lupo cattivo grazie grazie Stefano Elisa tocca a te Elisa è l'autrice di queste splendide illustrazioni che accompagnano la narrazione e la storia di Melissa Silvano e Giovanni il Barbagianni prego buongiorno sono molto felice di essere qua che ci siate e del lavoro che abbiamo e continuiamo a fare insieme non so se si può dire di solito preferirei evitare però sono sinceramente emozionata d'altronde il dottor giaroli ormai sono passati tre anni tre anni più o meno qualcosa più qualcosa meno mi telefono un giorno io ero in appennino dove sto spesso oltretutto è molto bello stare in appennino anche se i telefoni fanno ancora abbastanza schifo in realtà lui mi telefonava da Londra o dall'Australia non ricordo dove eri comunque il telefono funzionò benissimo e subito improvvisamente fu una grande gioia anche se non avevo ben capito di cosa stessimo parlando ma si trattava di raccontare dare una forma a quella che era una sua esperienza molto lunga con le disabilità con alcune problematiche dei bambini improvvisamente la mia immaginazione ha cominciato a cavalcare in una maniera pericolosa non so se questo vi capita è un'esperienza molto bella è sicuro che vi capita in una maniera a caso mai che non sapete o che di solito non siete abituati ad escrivere ecco poi il lavoro è andato avanti abbiamo cominciato a lavorare ai testi abbiamo cominciato a pensare i disegni facciamo una cosa bella certo deve essere molto bella parliamo attraverso la bellezza beh certo se ci pensate questo è qualcosa che rasenta lo spaventoso nel senso che chi di noi vorrebbe fare qualcosa di brutto della sua vita cioè realisticamente ora che la nostra vita sia piena anche di brutti sogni questo è vero e che a volte riusciamo magnificamente a raccontarli questo fa già parte però della bellezza della bruttezza cioè quindi la bellezza della condivisione di qualcosa che normalmente viviamo da soli e nel momento in cui lo condividiamo diventa invece un gran brutto viaggio condiviso che ha pure un suo lato di bellezza ecco i problemi qua cominciavano ad aumentare come potete capire in più i racconti che si cominciavano a scrivere queste favole che leggerete erano tremendamente semplici questo è un po' un inganno da dire perché in realtà semplici semplici non sono perché nascondono un sacco di di nuovo un po' come me oggi di emozioni sensazioni percezioni di cose non dette ora sappiamo che i linguaggi sono tanti quelli che abbiamo a disposizione fortunatamente non abbiamo solo la scrittura non abbiamo solo il disegno e la grafia abbiamo i materiali abbiamo le situazioni a proposito non so se avete toccato questo libro perché non è il materiale ciò che rende bello qualcosa però ogni tanto il materiale aiuta e allora non so se avete notato le carte come sono vellutate non so se avete notato che all'aprirlo si vede sempre questo verdolino color erba nelle risguardie che è un senso di freschezza e serenità non so se avete notato che sulla copertina a un tatto molto lieve molto ben abituato si sentono queste sinapsi che si illuminano come se fosse un piccolo universo questi lucidi timidi ecco al di là di questo se cade su un piede fa anche male era così la battuta quindi è un libro che ha un certo corpo ma al di là di questo parlavamo di come dare forma a qualcosa che forma in realtà non ha l'immaginario ora dicevo abbiamo tanti linguaggi a nostra disposizione certo è vero però in questo caso soprattutto si parla di un'idea di un'immagine perché perché così come ci abituiamo fin da piccolino a usare la scrittura per tradurre una serie di suoni una serie di versi che facciamo una serie di parole più o meno grammaticalmente ben costruite più o meno veicolanti dei concetti profondi così ci abituiamo anche a trasporle nel linguaggio scritto quindi usare un gesto che è una scrittura c'è un altro gesto simile alla scrittura che è molto semplice che tutti di noi tutti noi possiamo fare in qualunque luogo siamo anche che non siamo a casa a scuola siamo su una spiaggia siamo su un terreno un po' sabbioso con uno stecchino con uno strumento scrittorio che è il disegno e che è ancora molto più semplice che la scrittura perché qua adesso cerco di contenermi l'entusiasmo ma è quello con cui fin da subito abbiamo comunicato occhio scappa che c'è un bisonte non un lupo lupo no per carità occhio scappa che qua succede qualcosa qui non passare questo è mio sono segni e qua c'è una storia infinita di simboli che si vanno allargando ora mi piacerebbe che qualcuno di voi mi dicesse la verità fai presto a dirlo tu perché sono tanti anni che disegni sicuramente disegnavi anche da piccola sì disegnavo anche da piccola mi piaceva da morire avevi del talento boh non lo so può darsi più di altri il talento conta il talento senza l'esercizio sappiamo che non conta praticamente nulla quindi senza dubbio ci sono persone che hanno più talento nella parola alcune più nel segno alcune più nella musica alcune più nello sport e via dicendo ecco ma qualcuno mi potrà dire io invece disegnare non ho mai disegnato in vita mia sono assolutamente negato mio figlio ad esempio sa fare tantissime cose sa fare le capriole sa cantare non so che cosa però non sa disegnare non ha questo talento ecco allora io vorrei dire che lo capisco che effettivamente è una grande bella compagnia disegnare e che non vi nascondo che tutti noi che ci dedichiamo al materiale alla comunicazione al materiale artistico espressivo qualunque esso sia così come nelle scienze abbiamo da lavorare ogni giorno con rigore e con scienza per migliorarci e per proporre qualcosa che gli altri anche possono dire wow che bello come mi piace quello che chiamiamo bellezza però qua torniamo al problema iniziale di quando ci siamo telefonati il dottor Giaroli siamo sicuri di sapere che cos'è questa bellezza la nostra città magnificamente se ne occupa e cerca di metterla alla portata di tutti e questo è un atto veramente molto importante perché di questo stiamo parlando ci sforziamo di ragionare o di proporre ragionare tra di noi voglio dire mettendo il meglio che noi possiamo stiamo sicuramente migliorando la nostra comunicazione e l'intenzione di farci capire ma ripeto la domanda che cos'è la bellezza quando guardiamo un disegno di un bambino molto piccolo lasciamo stare che sia vostro nipote e vostro figlio quindi ci sia un forte legame affettivo una speranza sul suo futuro da disgraziato artista perché vi piace? perché quasi qualunque persona davanti a un disegno di un bambino dice oh anche quando ci sono dei disegni tormentati tremendi sgraziati malfatti diciamo la verità perché tanta parte di questa pittura che sta uscendo da zone manicomiali zone di cura e sono pitture non sempre tanto allegre al contrario questi sono spesso sono degli incubi rivelano delle ossessioni perché ci piacciono ci affascinano ci interessano o comunque ci producono un effetto in questo caso molte sono quelle che chiamiamo art brut art irregolare non sono sto quasi concludendo non sono percorsi artistici per raggiungere il bello non entrano in un cantiere per dipingere la cappella sistina non vengono mandati a degli editori sono i margini sono le inutilità della produzione artistica sto scherzando sono ironica della produzione artistica sociale quella che non servirà a nessuno se non a chi se non a chi li ha disegnati se non a chi li ha fatti cioè un'urgenza personale intima di raccontare qualcosa guardate che questo è molto potente e dall'altra parte la curiosità a volte un po' sciapo l'interesse molte volte non preparata capacità di raccogliere questo messaggio che siano problematiche molto forti come quella a cui sto accennando che siano dei bambini che non saranno casomai non sono ancora cresciuti come diceva giustamente il dottore Mazzacurati avranno tempo di rovinarsi di trovare le parole più delicate con cui descrive i loro stati d'animo ma non è detto che ce lo sappiano raccontare tranne quando fanno un segno grafico questo è potente e questo è inequivocabilmente bellissimo e allora mi stavo rispondendo da parte vostra alla domanda che ponevo prima non sarà che la bellezza la bellezza massima in realtà o una delle bellezze massime possibili in realtà non ha a che fare con chi c'è dietro questa bellezza cioè con l'espressione di un individuo con l'espressione di una singolarità in fin dei conti potrei dire qualcosa che è un po' più trendy con la diversità non sarà che è questo e non sarà che ogni forma di esprimere cercare di esprimere bellezza se la bellezza è raccontare qualcosa non è una forma di farsi conoscere anche esempi adesso cerco di tagliare veramente se no mi mandano via ma anche esempi più storicizzati dove non c'era questa libertà ancora concessa al pensiero all'espressione del pensiero potrei ritirare fuori Michelangelo Goia eccetera esempio ma se ci pensiamo perché a noi ci affascinano così tanto lasciamo stare che alcuni di noi hanno un livello di interpretazione più preparato per cui possono vedere livelli maggiori capirli meglio leggeli più profondamente ma d'accordo ma perché ci impressiona quando guardiamo un quadro di Picasso e il Guernica non sappiamo neanche che cosa sta succedendo sui cavalli disgraziati molti non lo sanno perché però sono impressionati il segno può anche non piacere faccio presente non è detto che quei segni lì tutti scomposti siano così forti che tutti rimaniamo con la sindrome di Stendhal però qualcosa ci sta arrivando e perché ci sta arrivando perché dietro ognuno di queste persone e forse anche per questo che ci sono arrivate c'è una persona c'è il suo segno c'è il suo tratto questa è una forma che collega il disegno lo so dovevo parlare del libro no? ho sbagliato? ma e questa è una cosa che collega il disegno alla scrittura perché? perché la scrittura e qua mi permetto è scienza non sono opinioni non sono emozioni perché la grafologia è una scienza esatta quindi è la scrittura la grafologia dimostra già come la scrittura il segno grafico oltre quello che si racconta naturalmente questo lo do per ovvio ma ha un'importanza fortissima nel nostro sviluppo ma anche nella conoscenza dell'altro nel lasciare l'altro come in mutande davanti a noi stessi cioè l'altro non riesce più a nascondersi uno può usare tutte le parole migliori più studiate nelle scuole di psichiatria più sottili che vuole ma il segno ti tradisce se pensiamo questo nella scrittura e noi umani tremendamente ovviamo questo problema scriviamo pochissimo non ci importa che i nostri ragazzini scrivano in stampatello in un corsivo all'inglese e che perdano tutte le giunture tra una lettera e l'altra non ci importa tanto scriveranno con un computer cosa gli serve tecleranno se no con un messaggino in whatsapp il più rapido possibile da riempire meno spazio giusto da essere belli sintetici ecco quindi a maggior ragione se tutto questo casino solo scrivendo pensate quando uno disegna se uno fa questo ragionamento va sicuro che smette di disegnare ed è il motivo per cui tanti di voi non disegnano ed è il motivo per cui anch'io insomma preferirei fare qualcos'altro perché mettersi a nudo davanti agli altri è un'operazione che richiede molta umiltà o molta sicurezza di se stessi o un percorso molto lungo quando abbiamo parlato di fare questo libro ci sono arrivata veramente in fondo abbiamo prima di tutto sono stata molto fortunata perché abbiamo fatto delle discussioni di stampo scientifico col dottor Giaroli ma non dal punto di vista artistico e creativo quando si dice che uno ha una relativa carta bianca che bello che è patema ora io ho convissuto per questi tre anni con va bene con Melissa con Silvano un po' anche col Barbagiani anche se era metà a Londra ma soprattutto con tutta una serie di piccoli posso usare la parola apparentemente inutili perché non troverete delle espressioni molto disneyane molto accese molto tridimensionali come potremmo essere abituati oggi ecco sono state con me nel tavolo della cucina dove mi sono messa a fare questo lavoro per tutto questo tempo e venivano da fuori un po' lottando un po' come i coreuti come il coro nelle tragedie greche era una parte che mi diceva ma cosa sta succedendo è una cosa bella o è una cosa triste boh è una cosa allegra quella che sta succedendo a Melissa e a Silvano o è una cosa sotto sotto tragica e tremenda boh e queste sono le espressioni che sono venute fuori in tutta la natura che c'era attorno d'accordo tecnicamente avevo promesso che avrei spiegato sono state fatte con un metodo molto antico analogico mi piace da sempre disegnare così quindi sono state fatte con un pennino inchiostrato appoggiato sul foglio e poi disegnato gli originali dovreste vederli perché sono abbastanza tattili lasciano un segno quasi grosso ma soprattutto disegnare in questo modo è terribile perché non ti permette un ripensamento puoi buttare il foglio prima facciamo degli schizzi cioè non è che voglio dire ci alziamo una mattina e disegniamo però nel momento in cui tu appoggi la punta sul foglio il tuo segno deve darsi una mossa ancora peggio che con un rapido ad esempio perché il rapido non gocciola e non si secca questo se ci pensiamo però è un escamotage che aiuta molto perché ci aiuta a non tornare indietro che è esattamente quello invece che ci sta aiutando a fare la tecnologia che è meravigliosa perché ti permette di togliere qualche macchiolina che ti scappa da questo pennino di cui parlavo o dal pennello con le chine che appena toccano la carta aderiscono molto bene però al di là di quello la tecnologia ci permette anche uno stand by ci penserò lo riguarderò e lo cambierò ma se stiamo dicendo che lo scopo dell'artista è infine quello cui bisognerebbe che tutti noi adulti tutti noi operatori tutti noi che ci teniamo a fare quella che si chiama della terapia o semplicemente offrire degli strumenti a chi sembra averne un po' meno tutti noi siamo chiamati a questo a far sì che uno sì ci pensi prima ci pensi dopo ma durante non cercare di cambiarlo perché sei te lascia che venga fuori com'è in modo che lo capiamo lo vediamo e tu stesso lo vedi riesci ad apprezzarlo questa è la parte più difficile però penso che sia anche la parte più interessante l'arte e la scienza non sono così dissimili è per questo che abbiamo fatto questo libro non so se mi spiego perché l'arte e la scienza vanno insieme hanno bisogno dell'altra entrambi vivono di illuminazioni entrambi vivono di sconfitte entrambi apportano della creatività la creatività è ovunque c'è una piccola differenza che l'arte ha un grosso grossissimo margine di soggettività questi disegni potevano essere fatti in altri 1500 modi quello che volevamo però che abbiamo pensato che ci siamo permessi e che non fosse nessuno dei due e questo è una concessione che mi è stata fatta immensa un linguaggio ancella dell'altro ma che i due linguaggi fossero complici vivessero insieme offrendo due punti di vista diversi quindi molte persone diranno io non mi intendo di arte però i disegni mi piacciono meno beh forse non ti intendi neanche di letteratura però usi la scrittura e sai leggere allora i miei disegni non descrivono esattamente quello che racconta il dottor giaroli naturalmente io ho letto e riletto e ho pensato molto a che forma potessero avere ma accompagnano con un linguaggio diverso che è appunto quello del disegno quello che è la parola potreste fare il simpaticissimo gioco di guardare solo i disegni e inventare un'altra storia o di chiudere i disegni e leggere solo la storia e vedere che cosa succede premetto quando leggiamo una storia la nostra testa sia che noi disegniamo o che non disegniamo in questo caso siamo tutti più o meno identici se siamo creativamente minimamente funzionanti produce delle immagini queste immagini non è che appartengano solo a chi si occupa di materiale visivo o di arte perché anche per chi fa delle immagini tradurre un immaginario mosso da un testo è complicatissimo sia contenta di prenderne un pezzettino e fare quello che può per farlo diventare segno perché qualcun altro lo legga se ci pensate e con questo concludo veramente perché l'ho promesso e non posso parlare oltre se ci pensate c'è tanta discussione oggi c'è una grande diatriba che sta muovendosi giustamente comprensibilmente su questa cosa ad esempio dell'intelligenza artificiale non entro in questo caso in merito dell'apporto che può dare alla scienza ma su quello dell'immaginario della creazione di immagini e dell'apporto visivo mi permetto di dire una cosa funziona attraverso degli input che sono verbali ora ripeto è chiaro che quando io ho disegnato questo libro ho prima letto ho fatto mio delle parole delle emozioni delle sensazioni e le ho tradotte nel linguaggio grafico e visivo ma è un altro linguaggio quindi non si muove solo traducendo il linguaggio verbale mentre l'intelligenza artificiale crea delle immagini partendo dal linguaggio verbale quindi va a diciamo rendere molto sottile o quasi inesistente una grande differenza se prima parlavo del fatto che il segno si assomiglia sia in quello verbale che in quello grafico va a togliere una grande possibilità che abbiamo casomai ci stupiremo un pochino meno davanti al risultato effettivo di un'immagine o forse ci sforzeremo di pensare un pochino di più chi c'è dietro che l'ha fatta che l'ha prodotta perché io spero che disegnate facciate disegnare le persone anche se fanno dei brutti disegni tanto per essere molto chiari e a conclusione visto che è un'epoca in cui la bruttura ci appartiene ci perseguita entra anche se non lo vogliamo e anche se non ce lo meritiamo nelle case di tutti penso che quando una persona si occupa si sforza chiede all'intenzione anche se l'intenzione non sempre basta di produrre qualcosa che è bello e che serva per apportare bellezza anche dove ci sono delle situazioni altrettanto non meritate e non così felici meriti un grande applauso che io oggi vi chiedo di ripetere per il dottor Giovanni Giaroli per tutti quelli che hanno lavorato questo libro grazie 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 Elise complimenti allora Giovanni e ci accompagni a conoscere questo libro concludo concluderò io oggi questa giornata come avete visto estremamente ricca estremamente diversa e l'abbiamo proprio pensato in questo modo proprio perché l'autismo non l'abbiamo voluto patologizzare a una condizione medica e basta l'abbiamo vista nel contesto medico letterario storico pedagogico e perché appunto non è una malattia del fegato mi pare che ci possiamo anche portare alla letteratura però non è che avrebbe molto senso però invece parlando di autismo ha invece molto più senso a prendere in senso lato io purtroppo mi sono imbastardizzato dopo stare vent'anni in Inghilterra sono molto più pragmatico e vedrete che io porto dei dati e non sarò così poetico e però voglio dare un attimo la base scientifica a questo libro che è stato scritto e quindi vi voglio dare alcuni dati un po' di nuovo di scuola anglosassone per cui il concetto appunto di causa è importante quindi mi chiederete da dove viene l'autismo quindi parliamo parliamo di una condizione adesso poi possiamo anche discutere sul concetto come diceva Paola interessantissimo delle nuove concetti di nuovo anglosassone di neurodivergenza come una condizione soggettiva o personale quindi non patologizzante quindi ci sono movimenti voi sapete per esempio che l'omosessualità è stata tolta dal DSM3 che era una condizione psichiatrica è stata poi tolta ed è stata depatologizzata ci sono movimenti depatologizzanti per l'autismo e appunto i movimenti di neurodiversità neurodivergenza eccetera nel senso io sono quello che sono la società poi cioè deve accettarmi e poi ci sono invece però movimenti all'interno stesso dell'autismo in cui dice sì vabbè io sono diverso dovete accettarmi come sono però la mia sofferenza deve essere riconosciuta per cui io nel senso ho bisogno di un termine ho bisogno di qualcosa che mi definisca in senso patologico tra virgolette per poi ottenere certe alterazioni del piano educativo per esempio o anche assistenziale che io perderei diritto nel momento che io perdessi questo statuto di diagnosi per cui il movimento appunto parlare di ho l'autismo verso sono autistico e la neurodivergenza verso l'autismo come patologia sono tematiche estremamente calde nel movimento appunto anglosassone in questo momento e immagino che poi siano anche trasportate nella realtà italiana quindi io prendo ve lo dico subito vi dico il mio orientamento politico in questo senso io ritengo l'autismo una patologia nel senso una patologia che non è un disturbo un cervello rotto io lo dico sempre ai bambini tu non hai un cervello rotto è un cervello diverso un cervello che però nella tua diversità in un mondo di normo tipici può portarti alla sofferenza e per cui io riconosco la sofferenza per me la diagnosi è importante come dico nel libro perché questa diagnosi mi aiuta a capire chi sono Virginia raccontava una cosa bella bellissima che vedo anch'io nella mia clinica che quando il ragazzo o la ragazza adesso parleremo anche in due secondi della ragazza con autismo che si parla sempre di bambini invece che di bambini autistici però il fatto che gli adolescenti in genere abbracciano molto più dei loro genitori la diagnosi perché è una diagnosi esplicativa che dà senso alla loro sofferenza ecco hanno il momento di Euraca ecco perché ho sofferto e molto spesso i ragazzi vengono a vedere il nostro centro self-directed cioè sono loro stessi che vogliono venire dicono al genitore io ho visto ho visto un mio amico ho letto su internet poi c'è il bad google doctor che talvolta indirizza in maniera negativa ecco però io vi davo il mio orientamento politico quindi l'autismo per me è una condizione non è un cervello rotto ma è un cervello diverso ci sono una componente genetica importantissima io che ho visto tantissime centinaia migliaia di bambini autistici un'altra espressione inglese che vedo oggi the apple doesn't fall too far from the tree la mela non cade lontana dall'albero io talvolta vedo delle similarità noi parliamo di endofenotipi quindi non trattamente non è che dico che un bambino autistico ha un genitore autistico però talvolta riconosci elementi che noi chiamiamo endofenotipi spesso nel in uno dei genitori o uno dei dei relative uno dei parenti per cui comunque le analisi genetiche anche di GWAS quindi Genome Wide Association Studies mostrano che ci sono alcuni polimorfismi alcuni punti del DNA che se noi combiniamo insieme con quello che chiamiamo i polygenic risk scores vediamo che ci sono un carico di polimorfismi in bambini o anche nelle triade genitoriale c'è un certo carico genetico e l'ereditabilità che non è non è mendeliana non è che padre madre allora è autosomica dominante o recessiva ma c'è un heritability che è il rapporto dall'influenza della natura nature versus nurture quindi la natura verso l'ambiente il gene verso l'ambiente una componente di heritability del 80% quindi sicuramente la genetica non si può negare nel caso io non ho mai visto le madri frigorifero come le descrivevano invece ho visto tanti aspetti di endofenotipi che arrivano comunque nel bambino poi ho visto anche costellazioni di famiglie in cui adesso sono una famiglia in cui queste padre e madre di grandissimo successo ve lo dico viaggiano in jet privato ecco quindi di grandissimo successo i quali cinque figli tutti e cinque hanno una diagnosi di autismo voi guardate i genitori dicono ma loro non ce l'hanno però li guardano dicono ma per una diagnosi possiamo farla anche lì ecco per cui ci sono poi costellazioni non dico ci sono dappertutto le costellazioni però ci sono effettivamente quindi se parliamo di diagnosi parliamo anche di trattamento mi piaceva anche quello che diceva Luca il concetto di recovery e di rehabilitation e anche quello che poi dico nel libro quello di poi di accettare quello che bisogna accettare di cambiare quello che puoi cambiare per cui dal punto di vista terapeutico e noi come diagnosticians come diciamo in inglese cioè noi che facciamo diagnosi poi siamo anche terapeuti per cui vogliamo fare qualcosa e quindi però dobbiamo anche definire chiaramente quali sono gli ambiti che possiamo modificare all'interno dell'autismo quindi ci sono tantissime ricerche noi abbiamo parlato di questi sintomi core core symptom dell'autismo quindi i sintomi cuore i sintomi principali dell'autismo della comunicazione delle stereotipie eccetera e noi abbiamo provato da tantissimi anni non solo tantissimi centri all'interno del mondo in giro al mondo hanno provato dall'ossicciocina alla mantidina ci sono tantissimi failed trials e vi assicuro che essendo in questo campo da vent'anni hai visto tantissimi nuovi indirizzi che poi sono sorti e sono disappeared sono spariti per cui non abbiamo ancora ve lo dico subito dal punto di vista almeno farmacologico nessuna terapia specifica per i sintomi chiave i sintomi core dell'autismo abbiamo anche provato con gli antidepressivi con gli inibitori della serotonina della re-uptake della serotonina a provare a smettere questi sintomi ripetitivi di ripetitività appunto motoria gli stimmings o ripetitività di pensiero le preoccupation e noi sappiamo benissimo che i bambini autistici con queste preoccupation sono molto diversi dai bambini con disturbo ossessivo compulsivo e per cui noi vediamo che questi farmaci che funzionano benino con un 60% 70% di efficacia nel disturbo ossessivo compulsivo non fanno niente nell'autismo per cui hanno un'efficacia maggiore talvolta minore al placebo per cui ecco vi dico che i sintomi chiave dell'autismo non sono modificabili dal trattamento farmacologico e quindi è un messaggio importante per adesso e di non aggrapparsi al primo carro che passa perché noi abbiamo visto tanti di carri che passano adesso un nuovo carro che passa è Transfico per esempio quindi utilizzare le feci di un bambino è una cosa schifosa però invece è una cosa che fanno in Arizona e ha qualche risultato utilizzano il biome quindi il contenuto dei nostri batteri buoni all'interno del nostro intestino perché comunque vedono una certa correlazione tra il gut e il brain soprattutto quindi la pancia e il cervello nell'autismo quindi bambini comunque normotipici prendiamo le loro feci le purifichiamo prendiamo i batteri che ci hanno dentro bombardiamo il bambino autistico con tantissimi antibiotici gli diamo un protettore gastrico quindi non c'è neanche l'acido gastrico gli buttiamo dentro questo estratto fecal transplant e hanno visto alcuni risultati io vi dico subito che sono molto scettico quindi vi propongo la mia visione scettica dal punto di vista di come trattare i sintomi chiavi poi non vi sto dicendo di non farci niente perché ci sono tantissime ricerche meravigliose con grandissima efficacia della logopedia dell'occupational therapy quello che si chiama in inglese appunto la psicomotricità eccetera quindi tantissimi aspetti fondamentali dall'ABA alla behavioral therapy eccetera che possono aiutare tantissimo il sintome core dell'autismo però non pensiamo ai farmaci quindi noi psichiatri chiamiamo almeno la generazione degli psichiatri biologici insomma chiamiamo i farmaci non li amiamo poi troppo con l'autismo perché non è che abbiamo tanti risultati possiamo avere risultati con le comorbidità ecco anche volevo spendere un attimo di parole di nuovo la comorbidità di nuovo sono molto poco poetico vedo porto di nuovo ai dati crudi della pragmaticità noi vediamo che il bambino autistico spesso non ha solo l'autismo e vi dico subito che i dati nostri inglesi anche quello che vediamo infatti voglio un po' portarvi alla mia realtà inglese appunto quello che facciamo noi nel Regno Unito e molto simile a quello che facciamo negli Stati Uniti ero in New York solamente la settimana scorsa a parlare col Child Mind Institute per provare per approvare dei progetti di ricerca comuni con New York siamo abbastanza allineati effettivamente il 50% dei bambini autistici indipendentemente dal loro livello intellettivo che è molto importante hanno un disturbo dell'attenzione e mentre il fatto che questa cosa non era possibile fino al 2013 fino al DSM quinto perché il DSM quarto diceva se tu c'hai l'autismo c'hai solo quello quindi non puoi averci le altre robe invece molto spesso il 50% addirittura ricerche molto più moderne fino al 60% hanno un disturbo un ADHD quindi un disturbo dell'attenzione e di iperattività che invece quella è trattabile farmacologicamente per esempio quindi noi rischiamo di avere quello che si chiama di nuovo in inglese scusatemi degli inglesismi un double whammy un doppio impatto dal punto di vista del funzionamento perché non solo abbiamo un bambino autistico con delle difficoltà appunto comunicative eccetera ma abbiamo anche un bambino che ha un disturbo dell'attenzione quindi ovviamente nell'ambiente didattico vi immaginate che un bambino autistico che di solito invece quando non hanno un disturbo dell'attenzione sono appassionatissimi dei dettagli e quindi hanno un'attenzione smisurata una hyper focus incredibile sul dettaglio invece abbiamo bambini estremamente distraibili e vediamo che l'impatto del disturbo dell'attenzione sul bambino autistico è gigantesco dal punto di vista dell'apprendimento ecco questo è un target farmacologico invece estremamente efficace per esempio e poi direte che io sono famante dei farmaci no però dal punto di vista della diminuzione dell'impatto effettivamente della disabilità può diminuire poi ci sono altre comorbidità noi sappiamo che i bambini soprattutto le bambine autistiche verso l'adolescenza hanno un aumento rischio di depressione di ansia noi sappiamo benissimo che tutti i bambini e bambine autistiche hanno un rischio di suicidio che è il triplo rispetto alla popolazione normotipica anche in essenza di depressione quindi o comunque depressione conclamata o comunque vista eccetera quindi c'è la regola del 30% noi sappiamo che comunque un 30% di bambini con autismo svilupperanno un disturbo d'ansia o svilupperanno un disturbo d'espressivo per cui nel senso la comorbidità è fondamentale da riuscire a capire di nuovo togliendo questo statuto di malato che non piace molto comunque di persona affetta noi togliamo anche la possibilità di riconoscere le comorbidità che aumentano il rischio di mortalità e di diminuzione del quello che si chiama life thrive cioè vuol dire il fruire della vita al massimo insomma quindi della disabilità quindi queste comorbidità noi stiamo vedendo in Inghilterra che probabilmente inizierete a vedere anche qua però noi tendiamo ad essere un po' i primi con quelle cose brutte cioè da essere farm eccetera tentiamo ad essere avanti e stiamo vedendo anche un crescente identità di genere nella bambina autistica quindi disturbi dell'identità di genere nella bambina autistica che noi diremmo bambina autistica diciamo è sbagliato perché a questo punto nel bambino autistico cioè nel bambino trans o bambina trans che abbia una grossissima incidenza parliamo addirittura del 30% comunque all'interno della sfera autistica ad alto funzionamento non al basso funzionamento ma ad alto funzionamento quindi con un intelletto preservato completamente di disturbi di genere e per cui un'altra cosa molto importante da promuovere educazione sessuale lgbtq plus eccetera a questi bambini o bambine che si identificheranno con un genere diverso un'altra comorbidità che vediamo aumentata tantissimo in autismo di solito in bambine di solito noi ci arriva non per la diagnosi primaria di autismo ma ci arriva con la diagnosi secondaria e poi facciamo diagnosi di autismo sono i disturbi degli alimentari i disturbi alimentari quindi l'anoressia nervosa abbiamo visto che alcune bambine con l'anoressia nervosa a dire la verità la loro rigidità nei confronti del rapporto col cibo è generato da una rigidità generale che appunto li conduce a sviluppare un disturbo dell'alimentazione non voglio essere così drammatico però sono di nuovo molto all'inglese dico le cose come rilevano i dati e come lo osserviamo in clinica per cui ecco l'autismo di nuovo io abbraccio la tesi come autismo come disabilità per appunto questi motivi e volevo spendere una parola di come mai abbiamo scritto due storie c'è Melissa e c'è Silvano c'è un'ape femmina e c'è un lupo maschio e perché iniziamo con Melissa perché iniziamo con la femmina perché la femmina è molto spesso misdiagnosed cioè vuol dire che non ci azzecchiamo che le femmine abbiano autismo era nata come patologia maschile quindi hypermasculine brain con le tesi più vecchie un po' di Baron Cohen a Cambridge quindi questo cervello che si è esposto ad alti dosaggi di testosterone le teorie un pochino più vecchie quindi devono tutti assomigliare a bambini autistici i nostri strumenti dall'ADOS alla ADI sono sviluppati attorno a bambini maschi autistici per cui molto spesso non afferrano la patologia femminile molto spesso noi troviamo a fare diagnosi di bambine autistiche nonostante abbiano un ADOS e un ADI negativi per cui questo vale a spiegare alle famiglie talvolta è difficile ma come fai come fai te dottore ad essere così su con i tuoi testi non ti mostrano e proprio perché la realtà fenomenologica dell'autismo è stata sviluppata attorno all'idea maschile dell'autismo ecco perché ho iniziato con una femmina perché volevo dare spazio alla bambina autistica che spesso viene non diagnosticata e perché la bambina autistica maschera perché sono dal punto di vista una volta potresti anche dire che i due cromosomi ex ti possono aiutare per cui talvolta quando vedi la bambina molto o li vedi molto gravi o le vedi molto funzionanti è proprio che fai fatica a vedere quella stratificazione che vedi più nel bambino maschio probabilmente c'è un motivo genetico come dicevo hai questo protettore del doppio ex del doppio cromosoma X e però poi le bambine possono essere presentati con fenomeni sfumatissimi attraverso il loro masking attraverso il fatto che invece di sviluppare la passione per i treni ha ha c'è l'autismo perché sta tutto il timetable dei treni invece la bambina si appassiona di un cantante una passione normalissima da avere poi se si scavi ti rendi conto che una passione più che una passione diventa una stereotipia cioè tutto diventa della cantante si parla come la cantante noi vediamo nel Regno Unito che c'è un accento molto particolare invece vediamo accenti americani per esempio delle bambine perché assumono perché sono innamorate di Taylor Swift o di chi altro ecco per cui per me è molto importante parlare della bambina autistica e vorrei appunto che ci si pensasse davvero se si facesse un grosso lavoro sull'autismo femminile e non ci stiamo lavorando molto ecco anche creando dei percorsi diagnostici diversi sulla bambina rispetto al bambino proprio per sviluppare delle testistiche più attente proprio per capire la bambina autistica di nuovo cioè qual è la differenza come mai come facciamo diagnosi voglio riprendere un po' quello che ha detto appunto Virginia per capire un pochino il libro che ho cercato di spiegare nel libro perché è una cosa molto esoterica cioè cos'è questa Eidos cos'è questa EDI che solo gli addetti ai lavori possono conoscere peraltro una cosa interessante mi rilascio a quello che diceva l'Elisa che il fatto che provate a leggere il libro leggendo solamente i disegni a diretta questa è una parte dell'Eidos in cui c'è il libro con le rane che volano e tu fai leggere a questo bambino un libro senza parole ma un libro con l'immagine e tu cerchi di evocare attraverso questo libro solo con l'immagine l'aspetto interpretativo delle espressioni facciali per esempio o della storia senza una traccia verbale ecco mi riattacco un attimo all'Elisa che non si è fatta credito fino in fondo dell'attenzione accuratissima alle espressioni facciali dei suoi personaggi proprio per educare il bambino che legge o la famiglia che legge questo libro ma guarda per te cosa pensa Melissi in questo momento ma cosa pensano le compagnie in questo momento questo è di per sé stimolo per il genitore che lavora col bambino al di fuori dell'aspetto verbale della scrittura che stimola le aree cerebrali ben diverse rispetto all'area occipitale quindi visiva per muovere delle parti diverse del cervello del bambino quindi l'aspetto delle immagini delle espressioni che diceva Elisa io pronto per fare l'aperitivo è contento o non è contento ma forse rimane in casa però si è vestito bene esattamente guardate anche questo 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 squirrel scusate come si scoiattolo ecco questo scoiattolo questa espressione un po' enigmatica e vedrete che tantissime espressioni nei disegni di Elisa sono estremamente enigmatiche proprio per generare un dialogo tra il genitore e il bambino tra la scuola e il bambino voglio finire per lasciare anche spazio alle domande e volevo dire un attimo per chi è stato scritto questo libro forse non sono stato chiaro non siamo stati chiari però voglio essere chiaro appunto qua per me è un onore avervi tanti numerosi a partecipare oggi questo libro è stato scritto per il bambino innanzitutto e per il bambino autistico innanzitutto e la bambina autistica come abbiamo detto quindi è un libro da essere letto al bambino o con il bambino dal genitore o dall'insegnante io non consiglierei una guida una lettura individuale del libro perché perdiamo molte cose io la consiglierei come lettura invece aiutata e avevo due scopi ecco ho pensato questo libro ne parlavo con Elisa ne parlavo con Maurizia mia cugina che è insegnante quindi quando disegnavamo questo libro e poi con Elisabetta che è altra mia cugina che ha aiutato a mettermi tutto a posto l'aspetto di gravissimi errori grammaticali che io invece mi porto dalle elementari e che sono pur peraltro disgrafico e per cui ho la concessione di vivere in Inghilterra da vent'anni per cui non so più scrivere in italiano ovviamente ecco per cui proprio confrontandomi con Elisa e con le mie due cugine che sono insegnanti per me era molto importante di volvere questo libro alla scuola e il genitore sì ma alla scuola veramente per educare all'interno della classe che ha un bambino diverso alla diversità della neurodiversità ma anche alla classe neurotipica cioè insegnare preparare la classe che semmai non ha nessun bambino autistico all'interno della quale ma ci sarà sicuramente la diversità perché se avete ascoltato il mio primo intervento vi ho detto che c'è uno spettro autistico che bene o male se leggete il libro ci siamo un po' tutti sopra bene o male per cui ci sarà poi questa linea immaginaria che chi ce n'ha di più diventa poi autistico ma siamo un po' tutti abbiamo le nostre particolarità di diversità per cui è stato proprio scritto per la classe di bambini normotipici anche per educarli alla neurodiversità alla classe che ha un bambino non neurotipico con un neurodiverso per educare la classe alla neurodiversità e per normalizzare o per fare sentire accolto un piccolo eroe il nostro lupetto o la nostra melissa che ci sarà in classe grazie 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 davvero a Giovanni e a tutti i relatori della mattinata abbiamo un po' di tempo se ci sono delle domande dal pubblico se qualcuno vuole diciamo intervenire prego aspetta che guardiamo se c'è un microfono forse non dietro andiamo a pescare un microfono prendiamo un microfono così riusciamo a sentire pure se vuole andare là mi sentite sì allora credo che un'informazione che ci ha stupito un po' da subito e parliamo così anche con le persone che avevo intorno è l'altissimo aumento di fenomeni ci sembra di aver capito di autismo in questi ultimissimi tempi se si parla di un rapporto di uno su sessanta cioè è un'epidemia quasi ecco pensavo poi anche però a quello che tu Giovanni avevi detto cioè io riscontriamo spesso un richiamo nei genitori di quella che poi di quello che poi è un autismo per così dire dichiarato dei figli il che da un certo punto di vista mi fa avvertire però anche una certa contraddizione cioè se però allora anche nei genitori e nelle famiglie noi avvertiamo questo allora forse il fenomeno non è più soltanto magari adesso lo riscontriamo prima no non lo so ecco comunque voi vi siete fatti un'idea delle ragioni per cui c'è questo aumento esponenziale del fenomeno dell'autismo forse ci sono delle realtà contingenti di questi ultimi tempi per cui magari ciò che appariva in nuce o moderatamente espresso anche solo nella generazione precedente adesso invece esplode in tutta la sua drammaticità non so se sono stata chiara chiarissima rispondo io ma poi posso anche rispondere ai relatori ecco è verissimo questo dato ve lo ripeto da 1 su 10.000 negli anni 60 70 su 1 su 60 anche le ultime CDC quindi l'America quindi Classification of Disease Center producevano dei risultati attorno 1 su 65 1 su 70 ecco quindi c'è stato un vertiginoso aumento allora ci sono due pensieri innanzitutto quello che succede quello che è successo per esempio col cancro della mammella cioè si è iniziato a diagnosticare con la prediagnosi per esempio e anche per esempio il cancro introduttale eccetera quindi quando abbiamo migliorato lo screening abbiamo aumentato l'incidenza di patologie mammarie perché le becchiamo proprio all'inizio eccetera e a questo punto noi comunque ci siamo spostati da un disturbo categoriale a un disturbo dimensionale abbiamo ampliato la diagnosi al discorso anche della completamente efficienza intellettiva e dove non c'era un disturbo del linguaggio quindi abbiamo ampliato lo scopo tra virgolette del quindi questa può essere una cosa siamo diventati più grandi nel comprendere le diagnosi se infatti guardiamo i gravi autistici cioè l'aspetto non verbale disturbo intellettivo che sono più di solito molto fortemente geneticamente condizionati non c'è stato un vero e proprio aumento ma c'è stato un molto aumento dell'aspetto più ad alto funzionamento effettivamente quello sicuramente che abbiamo notato che abbiamo una cosa un disturbo che era probabilmente solamente del maschio è diventato della femmina anche quindi tutte queste bambine o donne o giovani donne che non erano diagnosticate stanno venendo a bussare alla porta dei servizi per dire ma ascolta anche io mi sento diversa ci sono anch'io e quindi raddoppiamo già stesso perché comunque raddoppiamo già le diagnosi effettivamente già solo con quello effettivamente io l'aspetto comunque environmental quindi l'aspetto dell'ambiente non è super molto non è super impattante sull'aspetto dell'autismo c'è sicuramente ci sono gli studi di Ratter che dicevano ci sono tantissime persone che sembrano autistiche per esempio gli studi sugli ofanotrofi che poi a dire realtà non sono autistici se poi gli rimetti in un ambiente caldo erano più disturbi reattivi dell'attaccamento per esempio per cui c'è tutto il discorso di diagnosi differenziale con i disturbi dell'attaccamento allora io dire la verità c'è stato un grassissimo aumento di diagnosi ma per me perché abbiamo inclusi in maniera in maniera diversa l'aspetto diagnostico includiamo le femmine e includiamo l'aspetto anche a funzionamento ad alto effettivamente ad alto funzionamento intellettivo mentre l'aspetto comunque grave non è particolarmente cambiato ci sono invece dei grandissimi cambi nell'aspetto del disturbo dell'attenzione per esempio invece questo è aumentato vertiginosamente qua parliamo di disturbo del 7% quindi uno un bambino su 20 o meno uno su 18 quindi un momento gigantesco di questo disturbo per esempio dell'attenzione e qua invece possiamo pensare che gli aspetti ambientali possano invece avere un'influenza noi pensiamo che sicuramente noi vediamo che per esempio certi coloranti all'interno dei cibi possono affliggere alcuni bambini con autismo effettivamente scusate con disturbo dell'attenzione e per cui per esempio il colorante blu il colorante arancione possono in alcuni bambini aumentare l'aspetto iperattivo quindi eliminandolo non dico che questa è la causa però anche l'aspetto di esposizione anche ai cellulari ci sono molte cose che succedono nel nostro ambiente di adesso che espongono effettivamente al cervello di maturare più lentamente perché poi quello che succede nel disturbo dell'attenzione che è del precuneo frontale dell'emisfero destro del cerebello quindi del cervelletto possono essere condizionati da aspetti ambientali anche importanti comunque c'è sicuramente un aumento enorme che non è almeno in Inghilterra le liste d'attesa nel sistema sanitario nazionale sono i due anni o quattro anni per essere diagnosticati per il disturbo di autismo la nostra clinica che è una clinica privata noi ci siamo sestuplicati nell'arco di due anni proprio per questa esigenza che non è unmatched quindi non è riconosciuta non è completata dal sistema sanitario nazionale stessa cosa quindi non abbiamo abbastanza personale per poter diagnosticare questa fila di persone che sono alla porta bussando e chiedendo una diagnosi di autismo per esempio questa malattia se è possibile dire malattia da te cosa è generata? come dicevo l'aspetto genetico prende una una componente molto importante l'80% appunto è genetico c'è un aspetto allora vi dico le cose un po' quello che si sa dal punto di vista ambientale l'età paterna interessante non è questa madre frigorifero ma sembra invece più il padre tra virgolette l'età paterna quindi l'età dello sperma è più condizionante rispetto all'età materna interessantemente l'aspetto comunque di prematurità sono altre componenti che possono aumentare il rischio di autismo però di nuovo le componenti ambientali non sono poi tantissime che sono davvero sono l'aspetto l'aspetto appunto di prematurità l'aspetto di età paterna come maggiori effettivamente influenzanti dal punto di vista ambientale Virginia o qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su quello che ho detto lasciamo le domande dei partecipanti io sono Vera sono pediatra e sono d'accordo con Giovanni quando dice che è importante fare una diagnosi perché sotto in Inghilterra questo attiva una serie di servizi da un'altra parte vedo la frustrazione di molti di molti genitori che come dici tu devono aspettare in Inghilterra per due anni per vedere uno psichiatra perché chiaramente da una parte c'è un aumento terribile del volume di questi pazienti tutti quelli con i 10D da un'altra parte non ci sono abbastanza servizi e sappiamo non so come sia qua come in Inghilterra la scuola molte volte non accetti una diagnosi fatta in inglese privata e non attiva una serie di servizi se non c'è la diagnosi quindi evento un po' un cerco vizioso e quando vedo questi pazienti che vengono mandati da me perché hanno disturbi alimentari che sono una diagnosi condare oppure hanno problemi enormi di sensoriale e gli dico guardi io non sono una pediatra di comunità sono una pediatra acuta però credo che il suo figlio senza fare le diali e le dos abbia tanti sintomi che sono consistenti però io non posso farne la devo inviare al servizio e i genitori dicono guardi io ho provato ma sono due anni e quindi veramente io spero che in Italia sia diversa in Inghilterra in questo momento è veramente penso che per i genitori sia un enorme un enorme stress di cui probabilmente noi non ci rendiamo conto grazie Vera appunto pediatra anche lei in Inghilterra siamo entrambi in Inghilterra da tantissimo tempo sarebbe interessante sentire un pochino appunto cosa anche Virginia professor Bernati cosa si pensa un attimo della realtà qua spendo una parola velocissima poi le lascio la parola professor Bernati il fatto che comunque gli americani adesso per ovviare a questo problema loro sono molto spinti al non uso delle testistiche gli americani dicono che la diagnosi può essere fatta in maniera ambulatoriale senza l'uso della testistica quindi dell'ADOS e dell'EDI però poi perdiamo poi specificità cioè rischiamo di metterci dentro dei pazienti che non sono poi autistici per cui c'è un po' un casino rispetto a questo professor Benatti volevo chiedere a parte i problemi genetici che sono ben noti sviluppati eccetera se era mai stato considerato anche specialmente nel mondo dico perché qui in Italia invece credo che ci stia facendo e occupandosi sugli aspetti infiammatorio perché in base a delle forme di schizofrenia e anche altre forme c'è che parla molto per l'Alzheimer ma si parla anche molto nell'infanzia nei bambini di un processo infiammatorio di immunocompetenza quindi di immunodepressione immunoreazione quindi la presenza di citochine di leucochine quindi prodotti che dimostrano che c'è un atto un processo infiammatorio che potrebbe essere appunto la causa che porta professor Benatti ha perfettamente ragione ecco il discorso anche della fecal transplant che vi dicevo prima quel gut cioè il collegamento tra l'intestino e il cervello è proprio collegato con concetti di neuroinfiammazione effettivamente ed era per questo che avevano anche provato in passato a usare la mantidina che appunto è un farmaco per diminuire l'infiammazione un glatomatergico ma anche per diminuire l'infiammazione ecco sono proprio queste le teorie effettivamente che ci sono dietro in cui nel bambino autistico probabilmente ci sia un leaky gut quindi un gut che ti fa passare dentro anche degli agenti infiammatogenici e comunque un'esposizione appunto che altera il sistema immunitario per cui il cervello presenta con questo sistema infiammatorio e si collegano anche le teorie sconfessate associate alla vaccinazione perché c'erano poi anche le teorie molto politicizzate proprio nata in Inghilterra dire la verità quella con la MMR quindi il vaccino per la measles come si dice il morbillo ecco quindi non me lo ricordo come si dice in italiano ecco con questi vaccini effettivamente e c'era poi stati movimenti antivaccinali per i bambini che poi morivano di morbillo però effettivamente proprio associati a questo concetto infiammatorio le ricerche sono ancora indietro rispetto comunque ai farmaci anti-infiammatori come la MMR non sono funzionati adesso c'è un pochino questa speranza nel fecal transplant però come diceva lei professor Banassi ha perfettamente ragione ci sono le nuove teorie di aumento dell'interleuchina 2, 6 eccetera proprio connessi con l'infiammazione salve io sono mamma di un bambino autistico e volevo chiedere con quanti anni si consiglia l'introduzione di farmaci per un bambino autistico e con deficit di attenzione allora questa è una domanda molto interessante effettivamente intanto la ringrazio perché di solito quando parlo di farmaci la gente mi spara addosso e invece sono contento che non mi stia sparando addosso e proprio perché allora l'età allora ve lo dico subito ho fatto molti studi abbiamo tantissime casistiche sulla comorbidità di disturbo dell'attenzione di autismo appunto nel bambino e nella bambina sia di età di elementari sia di medie e sia di superiori poi in inghilterra non ce l'abbiamo perché abbiamo solamente elementari poi ci sono i superiori però vediamo che il bambino autistico ha una risposta leggermente modificata al trattamento per l'isturbo dell'attenzione purtroppo vi dico subito che in Italia ci sono pochi farmaci per l'isturbo dell'attenzione rispetto al resto d'Europa quando ero a Berlino la settimana scorsa parlare a un congresso che erano tutti ma non c'erano gli italiani perché gli italiani comunque era un convegno farmacologico e non ci sono italiani perché purtroppo qua in Italia abbiamo accesso a pochi farmaci abbiamo accesso al metilfenidato e la tomoxetina in Inghilterra Stati Uniti eccetera abbiamo accesso ad altri due farmaci che uno si chiama guanfacina e l'altro si chiama la lisdexanfetamina allora nel bambino autistico effettivamente noi preferiamo se possiamo non usare gli stimolanti perché il bambino autistico cioè per esempio il metilfenidato se possiamo evitarlo o la lisdexanfetamina perché tende ad avere un cervello più sensibile agli effetti collaterali dei farmaci e allora vediamo che l'irritabilità è una cosa che può succedere comunemente nel bambino che viene trattato per cui stiamo molto attenti noi di solito iniziamo un non stimolante per cui la tomoxetina che ha dei buoni studi o la guanfacina che hanno dei buoni studi proprio perché diminuiscono l'aspetto iperattivo del bambino autistico diminuiscono l'aspetto inattentivo ma in maniera molto gentile sull'aspetto comunque degli effetti collaterali però noi iniziamo il trattamento quando il disturbo dell'attenzione inizia già a creare dei problemi per cui noi invece proponiamo un intervento precoce sul disturbo dell'attenzione proprio per dare a quel bambino la possibilità di imparare di essere messo in condizione di imparare il prima possibile effettivamente non c'è nessun vantaggio ad aspettare detto proprio onestamente non abbiamo visto nessun vantaggio a meno che il bambino non abbia degli effetti collaterali importanti col farmaco sono farmaci studiati dall'età dei 4 anni in poi in Inghilterra di nuovo negli Stati Uniti alcuni stimolanti vengono usati all'età di 4-5 anni nei casi gravissimi effettivamente però nell'autismo inizierei il prima possibile ci sono tantissimi bambini affetto di disturbo dell'attenzione e si vede che stanno male si vede che hanno bisogno di un aiuto non possono non sono nelle condizioni di imparare o di stare in una classe così come sono però come dicevi tu i farmaci non vengono dati e quindi come un bimbo se ha la polmonite non viene curato cioè noi vediamo proprio in questi bimbi vediamo il loro disagio e il loro bisogno di essere aiutati anche forse insomma farmacologicamente quindi si starà stiamo progredendo in Italia in queste verso questa strada oppure c'è ancora abbastanza questo ce lo dice Ciro ce lo dice la Virginia sono pronta sono interessanti appunto chiedevo perché volevo dirti due cose anche risposte a questo il nostro CNR ha messo a punto un test di studio della lipidomica della membrana cellulare che il test ma non sono citate di cose recentissime che descrivono delle alterazioni del rapporto della composizione lipidica omega 3 omega 6 e omega 9 nella membrana dei bambini autistici ma l'orientamento il test è stato fatto sostanzialmente per essere applicato a qualunque condizione neurologica e anche fisica perché diciamo l'interesse si sposta sul funzionamento della cellula allora prima ti chiedevo se questo orientamento è anche un orientamento internazionale cioè lo studio della lipidomica e così il secondo aspetto questo te lo lo esprimo perché stiamo partecipando negli ultimi due anni a una ricerca sulla sulla cambiamento dell'alimentazione guidata dagli indici della lipidomica e dalla correzione delle numerose deficit e alterazioni che ci sono per esempio nelle nostre parti non così soleggiate per esempio il deficit di vitamina D eccetera allora immaginiamo che l'ipotesi è che in tutte le connessioni del neurosviluppo una pluralità di alterazioni anche neurobiologiche tra le quali quelle che ci titula tossicità degli elementi le carenze di alcune vitamine e le alterazioni della composizione lipidica della membrana possa portare alle condizioni del neurosviluppo la condizione autistica ma anche quello che diceva la signora le alterazioni di HD ti chiedevo se questo orientamento dello studio dell'epidome è un orientamento diffuso in ambiente internazionale in questo momento in Inghilterra da quello che ne so anche parlando appunto con la Di Martino al Child Mind a New York si occupano moltissimo di adesso si occupano molto anche di infiammazione come diceva il professor Benassi e anche di aspetto di gut quindi però di intestino effettivamente la cosa interessante effettivamente mi ridirei che è molto interessante sull'aspetto lipidomico è il fatto anche adesso fare questa correlazione qua all'aspetto comunque di alcuni oligoelementi che si sono visti essere a dire la verità influenti in maniera positiva su anche aspetti comportamentali per esempio l'aspetto di Omega 3 EPA soprattutto ecosopentenoic acid quindi questo acido ecosopentenoico che riduce viene sostituito all'acido arachidonico delle guaine di Schwann quindi delle guaine cerebrali dei neuroni per essere antinfiammatorio essenzialmente quindi ridurre proprio l'infiammazione e proprio si vede che talvolta in alcuni bambini dosaggi di Omega 3 attorno al grammo al giorno essenzialmente non il DHA ma l'EPA quindi ecosopentenoic acid può diminuire i problemi comportamentali poi c'è anche un'altra cosa che abbiamo visto in bambini autistici che è un deficit della reduttasi dell'acido foleico quindi abbiamo visto in alcuni bambini noi guardiamo anche la farmacogenomica che i bambini non riescono a produrre vitamina cioè acido foleico perché non viene la reduttasi non funziona e quindi gli diamo l'L-methylfolate il metilfolato L-methylfolato direttamente e vediamo che in alcuni bambini che hanno questo deficit il loro aspetto comportamentale soprattutto di aggressività tende a diminuire per cui ci sono effettivamente dei buoni studi collegati all'uso degli Omega 3 come lipidi effettivamente proprio come sostituzione delle guaine Schwann quindi migliorare l'impulso che sia nel bambino sia con gli disturbi di HD sia che in disturbi autistici riescono a diminuire hanno una buona di diminuire l'aspetto aggressivo per esempio di disregolazione emotiva per esempio quindi si collega bene con questa cosa che dicevi effettivamente tu Ciro sì ecco rispondendo a Maurizio appunto Virginia Ciro come sono qua la situazione dal punto di vista c'è un con uno stigma dal punto di vista terapeutico dell'ADHD dal punto di vista farmaco trattiamo i bambini con i farmaci possiamo non possiamo sì al di là adesso di ADHD o autismo sicuramente in Italia c'è molta più resistenza alla somministrazione di farmaci penso sia nella cultura comune quindi anche i genitori fanno spesso fatica quando si propone anche il trattamento farmacologico in primis è sempre trattamento comportamentale psicoeducativo e anche per la questione appunto che tanti farmaci non sono disponibili oppure devono essere prescritti off-label e quindi insomma rispetto a questo aspetto sicuramente si è più indietro poi sulla ADHD in particolare forse si sta prendo qualcosa di più perché c'è comunque una letteratura scientifica molto più fondata rispetto all'effetto dei farmaci sull'iperattività mentre nell'autismo noi ribadiamo sempre che come ha detto proprio Giovanni non c'è il trattamento farmacologico per i sintomi core dell'autismo ma solo per le comorbidità e quindi appunto se c'è l'iperattività se c'è l'aggressività se c'è ecco questo è un aspetto molto importante intanto volevo rispondere anche poi dopo lasciamo ed è quasi l'una vedo già che alcune persone stanno andando rispetto a questa questione dei tempi di attesa per la diagnosi allora noi proprio perché abbiamo il PRIA che è questo programma regionale integrato autismo abbiamo dei compiti come servizio sanitario e quindi è ormai da veramente svariati anni che ci viene chiesto di fare la diagnosi entro tre mesi dall'invio e abbiamo delle differenze cioè nel senso che se l'invio è diretto e quindi è il pediatra o l'MMG però diciamo il pediatra perché noi abbiamo soprattutto appunto richieste per i bambini e nell'età prescolare noi entro trenta giorni dobbiamo dare la prima visita e come servizi pubblici ci proviamo perché abbiamo proprio questa indicazione quindi almeno ecco questo è un dato confortante la questione però è legata al fatto che il pediatra deve mettere nella richiesta dell'invio un sospetto di disturbo dello spettro autistico piuttosto che i nostri pediatri usano ancora la chat e quindi è un test di screening e quindi devono mettere chat positiva piuttosto che anche qualcosa comunque di diciamo non così specifico per autismo a mettere disturbo della relazione della comunicazione altrimenti se il bambino ha nell'impegnativa la famiglia ha nell'impegnativa per ritardo dello sviluppo ritardo di linguaggio questi poi vanno al cup normale e quindi poi i tempi di attesa si allungano notevolmente perché vanno in prima visita peraltro e poi solo quando il collega ecco intravede dei segni dei sintomi che fanno pensare a ce li manda in seconda battuta come invio interno e sulla provincia di Reggio noi oramai proprio perché abbiamo tantissimi bambini ormai da qualche anno non abbiamo più centralizzato per esempio la somministrazione di questa famosa ADOS io lo dico in italiano ADOS e abbiamo in ogni distretto di neuropsichiatria della provincia degli operatori che hanno seguito il training per l'ADOS e quindi che possono in prima battuta anche nel distretto appunto proporre la valutazione specifica sull'autismo qui vengo il dunque quindi noi sulla valutazione diagnostica davvero stiamo penso proprio lavorando tanto e stiamo abbattendo i tempi di attesa il problema dopo è il trattamento perché appunto la diagnosi serve solo per il trattamento quindi la questione è che purtroppo con l'aumento esponenziale di autistici e anche di forme diversificate per cui non c'è un trattamento che va bene per tutti e quindi è diverso se ho la ragazza adolescente che viene che ha già appunto un passato piuttosto che il bambino piccolissimo che viene perché noi adesso abbiamo collaborato con un progetto con la neonatologia per cui ci inviano direttamente i prematuri che fanno pensare a piuttosto che il rischio nei fratellini e quindi facciamo ecco però il problema è che nella diagnosi siamo arrivati a dei tempi io penso insomma come servizio pubblico buoni il problema è poi di dare una risposta in tempi brevi la regione ci chiede entro due mesi dalla diagnosi 60 giorni di iniziare il trattamento e ci chiedono i dati quindi ogni anno li dobbiamo dare e soprattutto poi dopo di riuscire a continuare per appunto un progetto di vita perché non è un trattamento che si esaurisce in mesi o anni appunto ma che deve continuare in base ai bisogni quindi in base alla valutazione funzionale del singolo nel tempo e quindi il problema è il trattamento personalizzato in tempi adeguati e continuativo è questo comunque vedo che allora fate le cose funzionano meglio qua a Reggio che in Inghilterra che è a Londra essenzialmente decisamente anzi decisamente bene abbiamo tempo per un altro paio di domande credo ci fossero prego penso che la situazione a Reggio Emilia sia rappresentativa di tutta l'istituzione in Italia perché no certo io parlo di Reggio e del Pria e quindi della regione quindi in regione abbiamo proprio questo mandato e abbiamo ripeto ecco delle indicazioni molto precise e ogni anno ci vengono richiesti dati rendi contazione precisa rispetto a tempi della diagnosi tempi dell'inizio del trattamento e c'è stato un investimento della regione della sanità regionale poi questo era un rimando locale poi sicuramente ci possono essere delle situazioni in cui qualcosa non ha funzionato come come si vorrebbe piuttosto che nel resto d'Italia ci sono realtà sanitarie proprio molto diverse da quella dell'Emiliano Romagnola certo qui ritorniamo penso alla inegualità dei servizi che lo vediamo qua come lo vediamo in Inghilterra che secondo dove uno abita o del postcode i servizi sono molto diversi questo porta immagino qua come in Inghilterra gente che si sposti da regioni per andare in altre regioni in cui hanno servizio dei diritti quando parliamo di diritti alla salute dei bambini mi pare che non ci sia questa cosa chiaro che questo è un problema politico molto grande in realtà posso rispondere in realtà c'è la legge sull'autismo che è nazionale e ci sono dei finanziamenti nazionali prima erano dell'istituto superiore di sanità adesso del ministero della salute proprio perché l'obiettivo è quello che ci sia omogenità di risposta sia sulla diagnosi che sul trattamento e non a caso appunto noi come dicevo prima abbiamo dei finanziamenti che non riescono a coprire tutti i bisogni ma abbiamo dei finanziamenti e abbiamo dei progetti in cui abbiamo potuto assumere del personale proprio con finanziamenti sia regionali sia appunto statali e poi il fatto che ci siano sicuramente dei trasferimenti lo dico e lo abbiamo noi qui a Reggio e in generale in Emilia Romagna con diciamo così l'aspettativa di avere trattamenti come forse riuscivamo di più a fare un tempo e purtroppo proprio perché oltre ai tanti bambini e bambine che noi abbiamo abbiamo anche i trasferimenti non siamo in grado di dare delle risposte adeguate come si faceva come un tempo si riusciva a fare di più abbiamo un ultimo intervento qui davanti non sentiamo arrivo io lavoro all'infanzia sostegno e lavoro nella provincia di Mantua i tempi di attesa sono di circa un anno nel momento in cui il genitore accetta di fare domanda ai servizi ci sono problematiche di un grossissimo turnover di personale di scarsa reperibilità dello stesso perché molto spesso appunto fanno due tre anni nei servizi e poi passano al privato questa è la realtà che io sono originaria della provincia di Reggio di un comune al confine quindi lavoro di là per dare l'esempio delle tempistiche su un territorio molto vicino ma di un'altra regione ecco grazie mille grazie purtroppo dovremmo chiudere se avete altre domande noi resteremo comunque qua siete stati generosissimi del vostro tempo c'è una mamma sì dottore ma io un mezzo seconda ma sono di quelle cellule staminali che centi di eccellenza dopo te lo chiedo ma cosa cosa se ne fanno perché io sono alle medicine e tutto quanto però quindi lei diceva appunto le cellule staminali io le dico siamo veramente attenti io come clinico da tanto tempo vedo questi questi sogni questi gusti del giorno e però poi hanno la vita che prendono nel senso ve lo dico subito al momento attuale vi dico direttamente i dati dall'ultima conferenza dell'American Child Lesson Psychiatry di New York di due settimane fa al momento non c'è nessuno studio nessuno studio che ha validità che è quindi stato riconfermato con due studi per il trattamento core dei disturbi autistici nessuno studio per adesso ha confermato dal punto di vista farmacologico o comunque di intervento del genere una superiorità rispetto al placebo quindi nessuno studio cellule staminali mette tutti non c'è nessuno studio che si chiama evidence based al momento quindi che è un'evidenza clinica grazie a tutti grazie a tutti della vostra presenza ringrazio i relatori dei loro interventi e gli organizzatori per questa splendida giornata sicuramente da replicare mi viene da dire bene grazie a tutti grazie a tutti